Mi chiamo Cavarero Silvana, sono di Mondovì, sono venuta alla clinica Tirone perché avevo una situazione in bocca spaventosa di un impianto di vecchio con denti neanche più tanto belli da vedere. Avevo già curiosato su internet e mi ispirava questo impianto a carico immediato. Ho fatto il preventivo subito e sono partita con i lavori. Io sono rimasta proprio veramente senza parole perché ho tolto sei denti, ho messo i quattro perni, ma io non avrei male, ma niente. Dunque sono stata a casa, sono stata a dormire, ho dormito tutta la notte, va bene. Adesso è spettacolare, mangio di tutto. No, veramente, una cosa mi sembra di essere tornata vent'anni fa che avevo i miei denti, veramente. Ma io come mi sono trovata qua, sinceramente, chapeau.